buongiorno a tutti fra i tanti temi che ci sono all'ordine del giorno in questo momento ce n'è uno di particolare interesse di particolare importanza che sta un po sollecitando l'interesse l'attenzione di tanti insegnanti ed è il tema delle indicazioni nazionali il ministro ha fatto sapere che c'è l'intenzione da parte sua da parte del ministero di rivedere le indicazioni e è già stata nominata una commissione di lavoro la quale commissione di lavoro però non è ancora perfettamente formalizzata sappiamo per il momento che è coordinata dalla professoressa loredana perla dell'università di vari di più non sappiamo ancora ma credo che mancherà poco per avere qualche elemento in più di questo parliamo con il professor italo fiorin che al momento attuale è presidente della scuola di alta formazione della lusa ma soprattutto ha avuto un ruolo importante decisivo negli anni passati a partire dal 2007 quando nascono le prime indicazioni nazionali post morattiane cioè dopo le primissime indicazioni del 2004 quelle legate alla riforma moratti sia del primo che del secondo ciclo ecco in quella occasione nel 2007 italo fiorin era stato il coordinatore della commissione che era stata designata dal ministro fioroni all'epoca commissione che era presieduta dal dal epistemologo mauro cerutti ecco quella commissione era formata da una dozzina di grandi esperti di cui appunto italo fiorin faceva parte senti italo io direi partiamo proprio di qui per tracciare un po una storia di come sono nate le indicazioni nel 2007 e di come si sono successivamente evolute perché questa storia ci può spiegare molto di cosa è stato fatto fin qui e di cosa forse bisognerebbe fare di qui in avanti allora nel 2007 questa commissione si insedia come avete lavorato sì se posso fare un passo indietro però perché questo aiuta a capire anche il nostro lavoro e penso il perché e di questa scelta del ministro fioroni di mettere mano le indicazioni nazionali e diciamo che in realtà le primissime indicazioni e non sono state quelle del ministro moratti ma quelle del ministro de mauro il quale aveva portato a compimento un'opera di riforma avviata dalla precedente ministro luigi berlinguer le indicazioni che poi si chiamavano indirizzi per il curriculum de mauro hanno avuto soltanto la sorte di vedere la luce e di essere presentata al mondo della scuola ma quel dove quel governo era ormai al termine della sua vita e il successivo governo che era anche un governo di orientamento politico molto diverso e che aveva nel ministro moratti ministro dell'istruzione ha pensato bene di non dare seguito agli indirizzi del ministro de mauro e di por mano ad una revisione più che revisione ad un'altra versione completamente diversa delle indicazioni e esordendo con una frase che ripeto perché secondo me ha segnato molto nella storia di cui stiamo parlando il famoso punto e a capo fare punto e a capo di un lavoro di una commissione precedente che aveva lavorato con una larga partecipazione di esperti ricordiamo che il ministro berlinguer aveva messo in piedi una commissione di 40 di 400 saggi di ogni diciamo orientamento culturale scientifico nel questo paese si erano confrontati a fare punto a capo non è una cosa così innocua e questo spiega perché secondo me il lavoro che poi è stato fatto e le indicazioni che sono che si sono chiamate poi piani di studio personalizzati se ricordo bene hanno visto sì la luce è un periodo non molto lungo poi di durata ma non hanno visto il gradimento della scuola ecco questa ricostruzione che tu hai fatto anche della fase antecedente direi che è molto interessante perché ci fa capire anche bene il contesto in cui nascono le indicazioni del 2007 quindi nel 2007 voi venite nominati e iniziate a lavorare ma come vi mettete a lavorare con quale spirito con quali strumenti con quale metodo di lavoro come primo diciamo compito che ci siamo dati è stato quello di ragionare intorno a quella che dovrebbe essere ed è stata poi la cornice culturale e pedagogica e delle indicazioni stesse cercando da un lato di interpretare quali diciamo erano in quel momento alcune sfide culturali presenti nel nostro contesto particolare il fatto che si stava decisamente entrando in una dimensione culturale caratterizzata come diceva bowen da una società liquida da una società del cambiamento da una società nella quale bisognava misurarsi con l'inedito recependo anche un po diciamo tutta la lezione di chi aveva riflettuto sui sistemi scolastici al tempo della complessità e abbiamo avuto sicuramente è una grande attenzione a quello che era il dibattito internazionale uno delle persone dei personaggi più influenti che ha contribuito in qualche modo anche a fornirci elementi di riflessione importante è stato il grande studioso il grande saggio edgar moren con tutta la sua riflessione sulla complessità e quindi su come le discipline sono strumenti culturali che devono evitare la frammentazione diventare chiavi di interpretazione di un mondo che sta cambiando quindi abbiamo lavorato su questo ma abbiamo anche prestato attenzione alla tradizione pedagogica del nostro paese e quindi abbiamo cercato di fissare alcuni caposaldi dal punto di vista da un lato culturale e dall'altro pedagogico dal punto di vista culturale l'idea di un paesaggio educativo che non è più quello di un tempo di un paesaggio educativo nel quale la scuola sta diventando marginale rispetto al passato e che quindi deve ricostruirsi una diverso tipo di centralità intorno però ad alcuni punti fermi ma ci puoi dire allora quali sono le parole chiave che noi troviamo proprio in questa prima parte delle indicazioni cioè quelle che ci dicono proprio che ci spiegano la struttura la portata culturale di questo documento si posso dire quattro parole chiave la prima parola chiave ovviamente non è un ordine gerarche ormai la parola persona e intendendo per persona lo studente che apprende e che chiede di essere riconosciuto e chiede che quelle che sono le proposte dell'insegnante partano comunque dalla sua situazione dall'ascolto dei suoi bisogni dei suoi desideri quindi persona ma anche seconda parola collegata a questo cittadino o cittadinanza la cittadinanza è una parola chiave molto forte nel curriculum dove c'è nelle indicazioni dove c'è un lavoro di diciamo di ridefinizione in termini più complessi dell'idea tradizionale di cittadino si dice proprio che non è più il tempo nel quale si diceva fatta l'italia dobbiamo fare gli italiani secondo un'idea di omogeneità nazionale piuttosto oggi si è contemporaneamente cittadini del proprio luogo del proprio paese del proprio continente nel nostro caso l'europa del mondo e perfino del pianeta per usare così un riferimento molto moreniano quindi essere cittadini contemporaneamente a più dimensioni dimensioni che devono tra loro interagire ci restituisce un'idea di cittadinanza locale e globale sicuramente molto importante punto di riferimento che porta anche all'attenzione alle diverse culture che contribuiscono a formare questa idea di cittadinanza e quindi la parola comunità intendendo la scuola non come un luogo nel quale c'è soltanto da apprendere si va per apprendere sarebbe molto marginale ci sono mille luoghi oggi dove si può andare a frequentare per apprendere ma un luogo dove si apprende insieme agli altri in un dove la dimensione relazionale è una dimensione essenziale e quindi va curata con tutta quella attenzione che si dà quando si scoprono gli altri si impara a condividere o a confrontarsi o perfino a litigare se vogliamo con gli altri ma per ricostruire poi un qualcosa di comune quindi una situazione dove si sperimenta come avrebbe detto diui proprio la vita democratica quindi comunità e poi una quarta parola è mondo mondo nelle indicazioni c'è molta attenzione a che la scuola abbia a che fare con le sfide che ci sono intorno a noi e che sono sfide globali che sono sfide globali che sono sfide molto alte pensiamo vivono anche elencate al degrado ambientale al alla distribuzione iniqua delle risorse alla pace o i conflitti situazioni che però non devono stare fuori dalla scuola ma sono punti di che interpellano che sfidano l'apprendimento e che chiedono in qualche modo una consapevolezza critica una capacità di considerarle quindi questo è un po detto così molto molto brevemente forse anche un po grossolanamente ma una serie di riferimenti che costituiscono un po punti forti della premessa ecco da tutto questo ovviamente ne deduciamo poi anche la necessità di un diverso assetto dei modelli di insegnamento dei degli ambienti di apprendimento che che nella scuola si devono creare per consentire ai ragazzi di raggiungere queste finalità che tu hai detto ora e quindi su questo che cosa avevate detto che cosa avevate scritto nella nelle indicazioni del 2007 c'è una frase che aiuta molto a capire l'orientamento anche didattico che queste indicazioni suggeriscono la frase la recito quasi a memoria ma dice più o meno così e l'insegnamento trasmissivo che presenta dei contenuti invarianti pensati per alunni medi non è più proponibile proponibile non è una frase bellissima forse le indicazioni secondo me sono scritte bene in lingua italiana leggibile questa è la frase forse meno riuscita però è una frase molto forte l'insegnamento che propone contenuti invarianti pensati per alunni medi non è proponibile perché non non esistono alunni medi perché a scuola entra la diversità e quindi bisogna pensare un altro tipo di approccio e allora l'ambiente di apprendimento e viene caratterizzato da alcuni criteri che sono però prescrittivi e le indicazioni non possono certo prescrivere un metodo didattico non possono prescrivere non devono prescrivere una didattica di stato però non sono neutre rispetto a come si sta in aula come si sta in una relazione educativa e quindi forniscono dei criteri questi criteri e devono essere tenuti in considerazione poi l'insegnante potrà come dire interpretarli come meglio crede con gli approcci metodologici che preferisce ma quali sono questi criteri li dico sinteticamente dicono dicono così l'ambiente di apprendimento è descritto da queste parole innanzitutto si dice che si deve che bisogna partire sempre dal riconoscimento dei bisogni e delle esigenze degli studenti fai qualsiasi cosa ma questo è un criterio prescrittivo non si può insegnare a prescindere dagli studenti ma bisogna partire da loro dal loro volto vi ricordate la legge era una professoressa come inizia cara professoressa lei non si ricorderà certo di me ne ha bocciati tanti era un numero non si parte dal numero ma da un volto primo criterio secondo criterio è l'insegnamento deve promuovere un apprendimento attivo quindi c'è una indicazione precisa come criterio poi come questo si svilupperà dipenderà dall'insegnante ma poi si dice che non basta nemmeno un apprendimento attivo ma deve esserci un apprendimento esplorativo e quindi questo invita immaginare la scuola come un centro di ricerca come un luogo che si misura con i problemi che insegna gli studenti a confrontarsi con situazioni sfidanti quindi apprendimento che parte dagli studenti che attivo che esplorativo e poi collaborativo altro criterio prescrittivo anche qui poi organizzare la classe le classi come meglio li tieni ma attenzione devi pensare che dentro questo insieme di relazioni ci sia un'idea un aiuto una facilitazione un invito a far sì che si cresca come un gruppo di alunni che sono capaci di lavorare insieme di cooperare di essere solidari quindi la cooperazione come un criterio e poi ancora un insegnamento riflessivo quindi l'idea della riflessività che ha molto a che fare anche con la valutazione se vogliamo anche con l'autovalutazione con la presa di consapevolezza dei tuoi sforzi dei tuoi risultati delle tue fragilità di come puoi migliorare e direi come ultimo un insegnamento che punti ad una dimensione pro sociale dell'apprendimento e dell'idea della cittadinanza attiva c'è un passo delle indicazioni molto bello dove parlando della cittadinanza si dice che per quanto sia importante l'educazione alla pacifica convivenza non si tratta solo di educare alla pacifica convivenza perché si dice questa società bisogna costruirla continuamente assieme allora questa è un'indicazione veramente molto importante che richiama l'idea che l'apprendimento il sapere le competenze hanno anche non solo un risvolto personale il mio successo la mia riuscita ma anche una responsabilità sociale sono una risorsa che io posso mettere a disposizione degli altri e allora sono un cittadino attivo e non soltanto primi è riconosciuta una cittadinanza formale senti tutto questo va bene ma dopo di che ci sono anche le discipline che devono essere insegnate non trasmesse ma che devono essere costruite insieme ai ragazzi ecco voi come avete lavorato per arrivare a definire gli ambiti disciplinare e i contenuti di chi vi siete avvalsi tutta la parte diciamo dedicata alle discipline che sono giustamente gli strumenti culturali per eccellenza soprattutto della scuola del primo ciclo e tutto questo tipo di lavoro è stato un lavoro che è stato condotto in un dialogo serratissimo con la comunità scientifica noi abbiamo avuto anche diciamo potuto contare anche sulla disponibilità sulla generosità di molti studiosi illustri cito qualcuno certamente dello stesso de mauro certamente il professor sabatini e certamente il professor de vecchis per quanto riguarda l'insegnamento della geografia e tutta una serie di abbiamo ascoltato le associazioni professionali e le associazioni dei disciplinaristi e abbiamo ricevuto soprattutto questo che le discipline sono questi strumenti culturali che aiutano a pensare criticamente alla realtà se vengono proposti non soltanto in un tanto per la loro diciamo ricca quantità di contenuti perché i contenuti importanti sono sempre inesauribili ma per il loro approccio metodologico per il loro portato metodologico faccio un esempio la storia se noi pensiamo i contenuti della storia sono inesauribili ed è impossibile proporli è chiaro che bisogna fare delle selezioni tra l'altro queste indicazioni sono molto essenziali lasciano lasciano agli insegnanti poi la scelta il pescare alcuni contenuti essenziali ma non si può insegnare la storia come un raccontino perché questo non ha nulla a che fare con la scienza storica la storia ti insegna a misurarti con i documenti ti insegna a misurarti con le testimonianze ti insegna a confrontare punti di vista diversi ti educa ad un pensiero critico allora questi elementi metodologici che possono essere affrontati anche da un piccolo bambino se si comincia in maniera graduale sono elementi importanti quello che poi alla fine serve per formare non tanto uno storico di professione ma una mentalità critica e che si è alimentata proprio da un incontro con questo ricchissimo insegnamento quindi sentitelo quindi abbiamo sviscerato bene come erano costruite le indicazioni del 2007 nel 2008 queste indicazioni eh entrano eh di fatto in vigore si va andiamo avanti ancora qualche anno arriviamo al 2012 nel 2012 eh ministro eh Francesco Profumo se non ricordo male si rivedono le indicazioni perché accade questo per quale motivo il ministro Profumo decide che è arrivato il momento di dare un po' un'occhiata alle indicazioni di fare un po' di manutenzione le indicazioni del 2008 2007 2008 restano diciamo un po' in una fase che potremmo quasi dire sperimentale messe a disposizione delle scuole che cominciano a conoscerle e che manifestano un alto gradimento per questo tipo di testo e quindi in qualche modo si capisce che il gli orientamenti gli orientamenti che sono stati dati sono orientamenti che sono eh in qualche modo eh di aiuto alla scuola stanno in qualche modo aiutandola a eh camminare lungo il cammino dell'innovazione sono sostenibili e sono eh anche per certi aspetti uno stimolo al miglioramento allora quando arriva il ministro Profumo pensa che sia giunto il momento di eh ufficializzare questo testo toglierlo da una situazione quasi sperimentale per farne un testo eh dal punto di vista normativo ufficiale prima di fare questo eh giustamente secondo me decide di revisionare un po' il testo tenendo conto di tutto quello che intanto era successo nella scuola dopo aver un po' recepito attraverso anche un'indagine che è stata fatta un monitoraggio che è stato fatto quanto era emerso e incarica un gruppo non facevo io parte di questo gruppo ma un gruppo valido di tecnici ricordo sia per l'affetto che provo sia per il grande contributo che ha dato ad esempio Giancarlo Cerini come uno dei componenti di questo gruppo tecnico che fa questo lavoro quindi rivede il testo lo risistema tiene conto anche di alcune cose che noi non avevamo considerato la stessa maniera come per esempio le raccomandazioni europee sulle competenze chiave che vengono inserite e quindi il ministro Profumo decide di ufficializzarlo ma fa un'altra cosa che secondo me è molto importante per tante ragioni e cioè ritiene di affiancare il testo ad una con una commissione scientifica che avrà il compito della manutenzione del testo del monitoraggio di come questo testo sta entrando nella scuola ma anche di essere attenta ad intercettare tutti quei motivi nuovi tutte quelle sfide culturali nuove che nel tempo si possono manifestare e che quindi richiedono di essere recepite da un testo di questo tipo voi sapete si sa benissimo che quando c'erano i programmi ministeriali erano destinate a durare decenni ora pensare che le indicazioni possono durare decenni sarebbe anacronistico viviamo in un tempo di cambiamento rapidissimo quindi dobbiamo pensare come uno strumento che si può rivedere e si deve rivedere continuamente è molto interessante quindi questa scelta e io sì ho avuto l'onore di essere chiamato a coordinare questo comitato scientifico sì che aveva anche una durata due anni rinnovabili per altri due anni ma come comitato avrebbe dovuto essere ormai uno strumento di cui dotarsi di cui a cui attingere come sistema purtroppo non è stato così ecco e qui arriviamo proprio al punto perché tu hai detto allora nel 2012 viene nominato questo comitato tecnico scientifico di cui appunto tu hai che tu hai il coordinato eh l'incarico era rinnovabile per tre volte è stato rinnovato fino al duemiladiciotto quando era in carica la eh ministra Valeria Fedeli e proprio nel duemiladiciotto questo comitato fa l'ultima opera l'ultimo lavoro di piccola manutenzione delle indicazioni ritoccando alcune questioni e aggiornandole soprattutto al tema del digitale che stava un po' entrando nel mondo della scuola dopodiché dal duemiladiciotto in avanti però che cosa succede che questo comitato tecnico scientifico di fatto non esiste più o meglio da un punto di vista strettamente normativo il comitato esiste perché lo prevede la legge ma nel concreto il comitato non è mai stato più riconvocato è così è giusto quello che dico sì è così è così e questo secondo me è un segnale che forse non è stata recepita la lezione stessa eh che le indicazioni in qualche maniera contengono eh avere eh una attenzione continua al testo delle indicazioni che porta a rivederlo ad arricchirlo anche a modificarlo nel tempo significa attraverso però un lavoro appunto di attenzione scientifica da un lato e di attenzione alla scuola dall'altro e di attenzione alla società dall'altro ancora fare questo significa eh pensare che le indicazioni sono per la scuola un bene comune non sono la proprietà di questo o quel ministro sono cambiati tantissimi ministri se tu hai uno strumento di questo tipo pensi che c'è un lavoro che riguarda proprio un patrimonio che è un patrimonio di tutti se pensi che invece ogni volta che cambia un orientamento politico cambiano i partiti cambiano i ministri e da noi succede molto frequentemente si deve sempre rifare appunto da capo punto e a capo allora questo eh tradisce una concezione proprietaria della scuola e e questo è secondo me molto preoccupante molto preoccupante che io penso che pur nella conflittualità politica che anche una democrazia deve saper tollerare naturalmente sì io spero anche temporale ma comunque che c'è e ci sono delle ci sono alcuni veri beni comuni pensiamo alla salute e pensiamo cosa sarebbe una concezione proprietaria del genere della gestione della salute per cui chi arriva politicamente favorisce per la salute i suoi cittadini chi è il chi li ha votati la sua parte sappiamo pensiamo che questo ci fa in no di dire è qualcosa di tremendo e perché non pensiamo che la scuola non abbia lo stesso valore per un paese quello che ha la salute e che quindi sia un bene comune allora le logiche delle rivoluzioni quando non servono fanno soltanto vittime in questo caso e la vittima è la scuola le vittime sono gli insegnanti che sono continuamente sollecitati e fanno fatica a seguire poi quello che sta succedendo ecco credo che la grande idea che aveva avuto il ministro profumo di garantire un accompagnamento a prescindere da chi è che di volta in volta cambiano le persone ma se rimane quella metodologia e quel tipo di attenzione allora certamente penso che ci sia una maggior serenità per tutti ora i segnali che arrivano quelli a cui avevi anche accennato quando ha introdotto questa nostra conversazione ahimè mi sanno tanto di qualcosa di già visto è sicuramente poco bello da vedersi senti tu per concludere cosa ti augureresti che capiti di qui in avanti ma a me sembra che per coerenza con quanto ho detto mi augurerei innanzitutto che ci fosse una ripresa di questa logica di manutenzione del curicolo e di un cambiamento ragionato anche le indicazioni dico curicolo dico le indicazioni le indicazioni sono uno strumento per il curicolo è chiaro che il curicolo e poi lo strumento che è della scuola le indicazioni devono aiutare questo lavoro devono fornire alcuni riferimenti di uniformità nazionale dentro invece una scuola che deve rispondere alle istanze locali allora cosa mi augurerei che venisse ripristinata questa attenzione sistematica questo compito di manutenzione e di accompagnamento delle scuole all'interno di una visione pluralista nella composizione e nella capacità di dialogo e di interlocuzione e non invece diciamo di parte settoriale e tenendo anche conto che quando si cambiano le cose bisogna anche avere consapevolezza di ciò che va cambiato e di ciò che va mantenuto e mi sono chiesto un po vedendo quanto sta succedendo leggendo un po i segnali ma quali erano le ragioni della quali sono le ragioni che spingono finalmente ad accorgersi dopo che non è stato rinnovato questo gruppo che bisogna mettere mano alle indicazioni quali sono le vere ragioni perché una cosa è aggiornarle rispetto a delle a dei cambiamenti che sono avvenuti e tu stesso hai fatto un riferimento a tutta la questione digitale oggi abbiamo l'intelligenza artificiale ma anche quando abbiamo aggiornato il testo nel 2018 avevamo presente nella carta agenda 20 30 dell'onu per esempio che nel 2007 o anche nel 2012 ancora non erano dei documenti che erano stati proposti quindi bisogna avere questa attenzione che porta a rivedere però ci sono anche dei punti che io proprio ho ricordato come dei punti fermi ad esempio quell'idea di persona così come queste indicazioni la descrivono e che attinge al dettato costituzionale è ancora fondante quell'idea di cittadino ma anche di cittadinanza è ancora la stessa o c'è una revisione dell'idea di cittadinanza oppure a proposito delle discipline e della storia per esempio in particolare la storia è una disciplina scientifica che aiuta ad un ragionamento critico o dè invece uno strumento ideologico e quindi si auspica un uso politico della storia per favorire una ripresa identitaria sono domande se questi sono i punti critici allora se rimangono come orizzonte di riferimento quei valori che abbiamo cercato di raccogliere nella cornice iniziale ma che sono valori che attingono alla costituzione bene ben venga quello che si può fare per migliorare le cose se invece vengono messi alla prova questi stessi valori se viene messa alla prova questa idea di scuola che una scuola accogliente inclusiva della diversità allora sì c'è da preoccuparsi senti italo l'ultimissima questione perché è una è un tema che insomma sta anche un po entrando molto nel dibattito io banalizzo un po la questione la estremizzo però poi questo tema sta ritornando spesso allora le indicazioni attuali che hanno origine da quelle del 2007 per le quali insomma moren era stato un grande ispiratore fanno riferimento anche ad una idea di cittadinanza planetaria no di cittadinanza mondiale ecco c'è c'è chi oggi invece dice no è tutto sbagliato noi dobbiamo partire dalla identità nazionale ecco io vedo il rischio di uno scontro qui culturale politico ideologico fra i fautori della cittadinanza planetaria contro i fautori della identità nazionale questo aspetto mi preoccupa e credo che preoccupi molto anche tanti altri tu come la vedi certo se questo deve essere uno scontro tra due concezioni una identità per così dire nazionalistica è un'identità universalistica sono molto preoccupato per entrambe le versioni perché io penso ma nelle indicazioni questo è veramente detto molto molto chiaramente che la nostra identità nazionale è un'identità plurale chi conosce l'italia chi gira per l'italia non può non essere colpito dalle enormi diversità che c'è tra paesino e paesino non solo tra regione e regione e come questa diversità si è arricchita da tante storie che sono entrate qui nel nostro paese da tante contaminazioni che ci sono state e se c'è un genio italiano è la diversità se andiamo a vedere a fondo vediamo come noi siamo debitori da di tante cose e quindi abbiamo la possibilità di esprimere un'identità che è insieme nazionale e globale se poi si pensa che invece si può vivere restringendo i confini anche come dire culturali e pensando che anche tutto questo rientra in una sorta di made in italy molto discutibile allora questo sì è molto pericoloso ma è anche anacronistico e anacronistico come ogni sovranismo è anacronistico pensate ai cambio climatico il problema del clima non conosce confini possiamo fare tutti i confini che vogliamo ma il cambio climatico ci arriva ugualmente come problema e se non ragioniamo in termini di capacità di cittadinanza globale noi non siamo capaci di affrontare questo problema ma per fare solo un esempio allora il nostro paese è un esempio un esempio bellissimo di identità plurale le nostre radici sono plurali dobbiamo imparare dalla nostra storia e non avere paura non avere paura è la paura che fa rinchiudersi la paura dell'altro che non riconosciamo dentro di noi che fa rinchiudersi questo si mi preoccupa è facile fare la paura bene e con questo concludiamo questo bel incontro questa bella conversazione con italo fiorine che ricordiamo attualmente è presidente della scuola di alta formazione della l'unsa e che però a partire dal 2007 si è occupato molto in maniera diretta della redazione della stesura della costruzione della diffusione delle indicazioni nazionali è stato il coordinatore della commissione delle indicazioni del 2007 a partire dal 2012 è stato anche il coordinatore del comitato tecnico scientifico che aveva il compito di fare la manutenzione proprio delle indicazioni e quindi con lui abbiamo un po ricostruito la storia di questo pezzo importante della nostra scuola del nostro sistema scolastico di cui appunto si sta parlando molto in questi giorni grazie ancora a italo fiorini grazie 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 a te